amici ciao a tutti è come un microfono cari scusate signori si sente bene si si sente bene niente volevo dire anche questa pasqua è passata questa santa pasqua è passata e quindi mi auguro che l'avete trascorsa bene ancora c'è in epiche se non passa a mezzanotte naturalmente comunque sono felice che avete trascorso questa pasqua ovunque voi siete stati ok e allora vi volevo informare signori miei che mio genero il grande riccone che sta sposando mia figlia samara giorno 15 agosto rico sempre 15 agosto perché quella è la data ha fatto l'uovo di pasqua ok a mia figlia samara con una grandissima sorpresa dentro c'era una paperella così di plastica di plastica che si dubbiamo sta paperella di plastica e la regaliamo ad una bambina o ad un bambino una tiranta faccia vergognoso vergognoso io ho detto ne parlo naturalmente con gli amici del tubo che sono tutti in attesa di sapere l'uovo di qua e signori miei ma non fare manco non accattare l'uovo cioè ma sta malafiura ma manco chi ma neanche quelli che veramente non hanno la possibilità di fare l'uovo non lo fanno così ma che stiamo scherzando io mi ricordo che quando c'era mio figlio fidanzato che tipo non lavorava ed era fidanzato io ci rubavo i soldi a mio marito dalla tasca per dare signori a mio figlio la carta ce l'uovo la tozzita ma a carta ce l'uovo buono non su uovo di qua che ne ha signori ma manco saccio com'è ma neanche capito forse fu più bellino l'uovo che ci ha fatto sua suocera caso suocera ci fisi una cosa tutta con la carta celeste pur chissà chi ti regali un uovo con la carta celeste chi è mascolo ma figlia dico dobbiamo fare discorsi nel matrimonio dobbiamo fare discorsi che siamo a pasqua evitiamo i discorsi signori miei i discorsi di più si possono evitare meglio è a questo punto ma sono veramente delusa sono veramente delusa perché signori miei un bello prendere l'uovo di pasqua e ci dovevi dire questo uovo di pasqua io non ne mangio cioccolato facendo mangiare la tomata così ci aveva detto ma stiamo scherzando cioè non bastò neanche per me sto uovo capogliera duro ma duro ma duro che ciocco io non posso mangiare signori un cioccolato squaglia mucca io per ora che sono senza denti non lo posso mangiare cioè tu fai uno tu che hai la possibilità di fare un bell'uovo capito ma poi viene dalla suocera porta una colomba una colomba pasquale è morbida e me la posso mangiare neanche questo neanche questo signora allora io quello che posso promettere signori miei che lui quando mangia c'è da oggi in poi io ci farò mangiare passa chi pesce in bianco passa con l'uovo passa con il burro così ci faccio capire veramente che cosa significa un potere comprare le cose non iddo io secondo me con il suo matrimonio ne messemo la 40 con il suo matrimonio ne messemo la 40 secondo me perché allora signori queste sono delle cose che io ci tengo allora io per quanto riguarda i regali queste cose di qua fidanzamenti queste cose ci tengo tantissimo ci tengo ci tengo sì è vero c'è tanta gente che dice i regali non contano conta l'amore conta eh signori miei ma sapete quanto ne conoscio io eh il reale cefana alla voce vogliamo parlarne di mio marito vogliamo parlarne di mio marito che per la festa delle donne portava alla mimosa al somace e alle sue sorelle e a mia niente allora dico che cosa dobbiamo di che cosa vogliamo parlare di che cosa vogliamo parlare stasera noi perché io non ho nessun argomento più da prendere io mi stanno cadendo veramente tutte cose dal dal cuore cioè allora signori miei i zitti che app e samara quelli precedenti vi ricordate in mroggiona che dicevano che avevano invece non avevano niente forse forse a regali c'avano meglio a regali c'avano meglio basta dire l'anello signori miei io c'ho l'anello di fidanzamento un cioretto e più signori miei ma stiamo scherzando è favoso non è favoso un cioretto e più quando portano però dico già si vede il pensiero fu fatto signori miei quell'uovo che ci ha fatto un montone a samara si e no si e no allora si e no se ci custo qualche 2 euro in rotte è assai dice ma conta quanto si conta perché tu hai i soldi tu hai i soldi tu devi entrare nel supermercato e dire un uovo per la mia ragazza un uovo per me si vuoi dire a così a dire tu che hai la possibilità di farlo quando viene casa cosa vuoi trovare a cinca a fede cinca non ti preoccupare che ti faccio trovare io la fettina di carne che tu non mangi se non hai la fettina di carne nonno io non vengo stasera che cosa mangiate a mia figlia ci fa e mia figlia ci fa pazza sta facendo nonno io la pasta la mangio solo a pranzo e c'è signori miei uno che pesce non si può permettere chi se avuto ma nuova tu a comandare entra a mia casa lasciamo perdere lasciamo perdere tutto savine a pigliare ancora non sono venute ancora savine a pigliare oggi a pasqua oddio dire signora chiamarmi così signora auguri buona pasqua assolutamente no idda ciao montone ti fa l'auguri di buona pasqua e canta macchina e biglietta che sei tu devi essere figlia di dire ma ci facessi l'auguri di buona pasqua a mia madre e a mia padre tu dovevi essere purtroppo chissà mi va contro capito chissà chissà qua io parlo da ora parlo quando lei non c'è perché idda ci va a conto a tutte cose pane pane e vino vino pane pane e vino vino ci va a conto a tutto ci va a conto a pane pane e vino vino no è veramente è veramente una cosa che io ci sto rimanendo male signori miei ma perché partono tutti così partono tutti che fanno capire e poi si e poi si rilevano rilevano quelli che sono quelli che sono piccina così e si sono rilevati quelli che sono e cacu me l'appare a mia e sono macchina appena si è marita mia figlia perché ci sembra che io sono stupida e qualcuno mi può prendere per fessa a mia per fessa o mi piglia nudo e ora mi gioco mi gioco tutto che giochiaio tutto mi devo mi devo impegnare mettermi i debiti se dire vieni qua perché io non ho bisogno che tu mi paghi un matrimonio di mia figlia la devo fare rimanere così la devo fare rimanere così ci dico perché io qua sogno senza piccoli e avevo più dignità e tia ma che cosa stai dicendo che cosa sto dicendo ce l'hai ce l'hai imparata tu l'educazione imparata si dice consegnata sapi tu chi è che tu ce l'hai imparata l'educazione a tuo figlio di come comportarsi con le ragazze soprattutto con le fidanzate di fare i doveri quello che significa dovere Pasqua uomo di Pasqua tutto qua comunque quello che mi interessa di più è che l'importante che voi avete naturalmente come posso dire trascorso un'ottima Pasqua e domani è Pasquetta buona Pasquetta a tutti voi vi voglio bene un abbraccio ciao a tutti saluto sempre il mio odontoiatra signori miei mio odontoiatra che molto presto mi cambierà la vita ciao a tutti